This was the 46th question that I missed inside. Come sapete bene il regime di sanzioni che è stato applicato ha alcuni principi di base, la gradualità e la reversibilità. Questi sono i due principi che sono stati alla base del lavoro che è stato fatto e che continuerà a essere fatto. E' chiaro che però perché queste condizioni ci siano serve una piena applicazione del protocollo su cui c'è stato un accordo a MISC, cosa che in questo momento non mi pare esserci. Quindi io mi auguro che in futuro tutte le parti dell'accordo che è stato siglato a MISC vengano implementate in pieno e poi si prenderanno le decisioni del caso.